Dal 2006 è presidente di Ciudadanos, partito che si definiva antinazionalista e liberale. Il catalano Albert Rivera un anno fa era il leader più stimato. I sondaggi infatti davano al suo partito il 30% delle preferenze. Tuttavia il voto di fiducia contro Rajoy lo ha ridimensionato, favorendo il sorpasso di Pedro Sanchez. Il 39enne esclude patti con i socialisti e dice che preferirebbe governare col Partito Popolare e senza l'estrema destra, pur non escludendo quest'ultima eventualità. Eletto al Parlamento catalano nel 2006, ne è rimasto membro sino alle dimissioni avvenute prima delle elezioni parlamentari del 2015. Tra le sue proposte l'estensione del congedo di paternità e maternità e l'abbattimento delle tasse per gli imprenditori autonomi che non raggiungono il salario minimo.